Ecco qua, siamo a Pistorante Bracere, vero? Sì. Abbiamo Duce. Vicino a Omisce. Ah, vicino a Omisce, esatto. Comunque, in Croazia. Noi siamo dalla sinistra. E finalmente siamo. Bellissimo. Sì, a sinistra. Un po' di spiaggia al rituale. Sì, ecco qua, i tedeschi. Sì, e i calabresi nel mondo. Alta. Hai ripreso la barca. Sì, sì, la barca adesso non si vede comunque. E scende un pochettino. Eh va bene, è un altro.